Riforma delle province parla il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli e non le manda a dire sulla legge del Rio che definisce la più grossa vacata della storia del paese e continua dicendo abbiamo verificato che ha creato solo disastri e non è un caso che fra le varie proposte che sono state presentate a Roma per abolirla ce ne sia anche una del PD. Una riforma ha sottolineato che del resto è prevista anche nel programma del governo Melonio e viaggia in una proposta di legge che è già all'esame del Senato. Al ministro è stato anche chiesto se la Sicilia può legiferare in materia definendo la questione prima che lo faccia lo Stato e a tale scopo Calderoli ha tagliato corto. Non entrerò mai nell'attività di una regione autonoma. Lo valuterò solo a lavori ultimati. Io non credo, dice, che sia un problema di armonia costituzionale. Nelle regioni a statuto speciale ognuno decide a casa propria.